tra cosa che le mutande deve rispondere perché la maggior parte degli tre ma no pure con te parla vogliamo questo che bello vuoi fare scusate rimettiamoci i pantaloni e parliamo con la chislevi questo stronzo di mutandati davanti a una signora non solo si parla col premio di mutande ma anche davanti a una signora due matti alessandra prego